Notte bianca del Mediterraneo, Pescara si illuminerà, diventerà come di giorno questa notte adriatica, tutta la costa che avrà moltissimi eventi. Sì, la prima notte d'Italia che vuol far tornare Pescara una città attrattiva, bella, dinamica, capace di vivere 24 ore su 24. Una grande piazza lineare, chiusa al traffico veicolare, dove daremo risalto alle unicità del nostro territorio attraverso concerti, musica, spettacolo, food, che coinvolgeranno gli stabilimenti balneari e tutta la riviera. Ricordo gli appuntamenti che sono più importanti da sud a nord, avremo all'Arena del Mare, all'altezza della Madonnina, il villaggio di Radio 105 con il concerto di Raff, allo Stadio del Mare in centro la presentazione dei giochi del Mediterraneo con l'esibizione di Carima, poi a Largo Paolucci una serie di DJ che verranno da tutta Italia con il punto clou che sarà quello dell'esibizione di Fargetta, l'ex Cofa che in quella sera ospiterà la musica elettronica e poi tante iniziative davvero per tutte le età. Questa Notte Bianca è una grande occasione per il commercio pescarese, per gli stabilimenti balneari. Giovedì sera si è riunito il direttore della ConfCommercio, abbiamo chiamato tutto il settore dei negozianti, qui abbiamo detto che è un'occasione da non perdere, noi dobbiamo essere con i nostri negozi aperti le luminarie di questa grande giornata nottata mediterranea. La notte mediterranea di Pescara io credo che sia la notte bianca di tutto l'Abruzzo e credo che noi dovremmo toccare come primo anno almeno 200.000 presenze in più. Manca davvero poco, Pescara è pronta ad accogliere i giochi? Pescara penso che sia pronta e noi stiamo lavorando perché sia sempre più pronta, ma quello è un compito nostro di promozionare questi giochi. D'altra parte noi partiamo dalla Legacy che ci ha lasciato Pescara 2009. Vedo che la città comincia a rispondere, noi stiamo lavorando per questo, ma mi pare che ci sia quel grande entusiasmo che tutti noi ci auspichiamo.